e leggerli mi poppa l'immagine di Cinderella ok ragazzi secondo voi chi ha messo like? ah la scopriamo così piano piano? guarda un po' la riconoscete la foto? ora un po'? ya 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 signor Tekame aia ya 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 signor Tekame aia ya 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 wow 9000 hours on iverns looks no lo voglio davvero rivedere cioè quindi il suo path di clear è stato marchia i tre campi va a fare il red lo smita marchia i lamabecchi holy shit ragazzi questa era smooth as fuck proprio mamma mia mi ha fatto venire la pelle d'oca intanto sto laggando come un bastardo non è un problema grazie a lord pene per il follow ci abbiamo avuto un bel po' di follow oggi ragazzi e chissà perché forse per il contenuto che porto c'è ma è la vita esce dalla mia testa ah scusa mi scusa ma ci piu' solo che esso in inverno il cioccolato è un po' duro oddio ragazzi è impossibile giocare con la camp bloccata vabbè tanto sono io mi non devo giocare dobbiamo scappare le palle dai oh una volta e due grande 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 i merdinger bravo che vuoi come mangi e lasse tutte le apucine mucate ma grazie a tutti una doppia v dai eh no dai io impazzisco no io impazzisco ma veramente dai ammazza no no io credo che io credo che io credo che io credo che io non so se io non so se sono se faccio più schifo io o jean sinceramente non ci farò credere porca porca porco dio porco dio porco dio c'è si piega sempre i dobi di harry potter potresti fare un bonobo guarda è insane questo talento guarda i capelli spavonazzi le orecchie lunghe cioè dai avete mai visto uno avete mai visto uno dimmi che è andata bene ma io non sto guardando qualcosa mi dice che è andata male ragazzi qualcosa potete fare il bar di quello che è successo ho provato a fare la play no look no non ho gli occhi ma non ho gli occhi no non ho gli occhi no non ho gli occhi mi dispiace ma non ho gli occhi ce la vi te ce la fa ma qua bloccate sta no no e che non ci caminne che cazzo che cazzo vedi ah si è tolto da facebook e togliamo pure lui di di io di te no no di lui si è tolto il suo e poi c'è salviato ma che cazzo e levo pure lui a se lui non c'è tu non ci sei ah ok ecco ecco che c'è è la cazzo tigra più cani sono staccate le cuffie porco dio questo è ok presentato è tutto a posto qualcuno è dentro eh sì questo è il bait vero perché non sono più nessuno pensa che qualcuno possa interrompere il baron hai fatto più di 1000 danni 100% ho fatto più di 1000 danni di te non cambia un gran che onestamente guarda in realtà tipo ieri sera stavamo là stavamo là un pippone a Sara quando stavamo andando a dormire non potevi beccare un pochino madonna quanto so storta però anch'io prova ci zaccala prova ci zaccala no 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 ok 606 game over porco Dio non farmi questo Talia non farmi questo porco Dio porco Dio lo sapevo lo sapevo Talia stay stay at your place stai al tuo posto I carry if you stop in non ci voglio credere non ci voglio credere dimmi che spavano qualcuno cerco di tankarmi minion non so oddio quanti eh niente ma falla danno sto pure morendo tranquilli sono solo 8-0 bot ho perso dei game dove sono andato 13-0 quindi direi che si può ancora fare col movimento arnica del maestro anche se ormai one shot no porco Dio porco Dio l'ho predittato mamma mia che cazzo gli ho fatto ragazzi cosa cazzo ho fatto a Stauriana se lo ricorda tutta la vita ad operare affinché smette di farlo ah fra frasto rastuono cilotta ho letto bene scusami due volte allora ti mando due baci ma sono baci a giro questi che arrivano nella nuca ciao DG ah capito baciami stupido baolo sei mitico continua così che sei grande chi è bella ricca ma ti sei guardato è la madonna che lungo cioè ma è una roba troppo lunga capisco che sia lungo però è veramente lungo ragazzi grazie a tutti